Ciao ragazzi, come vi ho annunciato nell'ultima live, questa volta non vi parlo di autobus, ma vi parlo di un amico. Questa persona che già conoscevo, però è la prima volta che ho occasione di portargli un pezzo da fare, per cui voglio mostrarvi il risultato. È semplicemente un ringraziamento in video per l'ottimo lavoro, per la disponibilità, per il risultato che mi ha portato. È semplicemente un consiglio per tutti gli amici di Udine, del Friuli Venezia Giulia, dei dintorni, che vogliono coccolare la loro auto, che vogliono darla in mani sicure, il cui risultato è garantito, perché adesso ve lo mostro. Partiamo dall'indispensabile. Dovevo cambiare le gomme perché erano arrivate alla frutta. Mi sono semplicemente fidato del suo consiglio e abbiamo cercato la migliore alternativa assieme come qualità prezzo. Per quel che riguarda le stive, questo è quello che mi ha montato. Ovviamente mi ha fatto compreso tutti gli angoli delle ruote, campanatura, convergenza, ovviamente bilanzamento delle gomme sul cerchio. Mi ha montato queste Nexen Enfera, si chiamano, misura 225-55-17, classica della Subaru XV, dot freschissimo, quinta settimana del 2021, come si può leggere. In più, dovevo sostituire la testina anteriore destra, che è qua dentro. Per cui, questi erano i lavori da fare. Già che c'ero, essendo lui specializzato in carrozzeria, ho voluto fargli riprendere un po' l'estetica dell'auto, che presentava qualche piccolo tocco da parcheggio, cose normali. Guardate, ad esempio, qua c'era un graffietto da cancello, perché l'avevo toccato io. Guardate il risultato. Ve lo mostro da più angolazioni, in modo che la luce non influisca minimamente. Guardate, guardate qua. Questa era la zona in cui avevo appena appena toccato il cancello. Non si vede minimamente. Questo è uno sporco. È stata, giustamente, anche lucidata, perché non si può passare in carrozzeria senza lucidare. Guardate il risultato. Non c'è il minimo segno. Questo qua è un riflesso, che vedete. Dettaglio, il massimo dettaglio che può fare l'iPhone. Non si vede più nulla. O anche qua c'era un altro colpetto, una sportellata di qualche altra persona, sempre di parcheggi pubblici. Non c'è nulla. Non si vede più nulla. Idem qua davanti. Mi hanno lasciato un segno, sempre da parcheggio, regalato da un'altra auto. Guardate qua. Guardate il risultato. Non si vede nulla. Vernice perfetta. Questo graffietto, ovviamente, è rimasto, ma me l'ha scaldato e ridotto di molto, poiché era molto più visibile prima. Fari lucidati. Abbiamo di nuovo una resa degli xeno del 100% delle loro potenzialità. Questo è sporco. Ho già fatto qualche chilometro, per cui già i primi insetti si sono spiaccicati di nuovo. Guardate qua. Guardate che spettacolo. Sembra nuova all'esterno e non solo. Nel frattempo mi stanno mangiando le zanzare, per cui... Ecco qua. Di qua non c'erano segni, ma vi mostro il dettaglio della lucidatura, di come è venuta. Tra l'altro la luce del crepuscolo non aiuta perché crea mille ombre, mille riflessi, eppure si vede comunque la qualità del lavoro fatto. Di qua, non ricordo bene dove, c'era un altro colpetto da parcheggio sulla portiera, sulla nervatura della portiera. Non si vede più niente. Andiamo sul retro perché anche qua c'era qualche graffietto, poiché io uso tantissimo il bagagliaio, infatti ci ho già messo dentro della roba. C'era qualche graffietto fatto da me sull'esterno del paraurti, qua. Ecco là, c'è dello sporco, ma di graffi neanche l'ombra. Sono spariti tutti, guardate qua. Guardate che bene. Poi mi ha pulito, mi ha lucidato persino l'interno del portellone, delle portiere. Che spettacolo. Davvero un lavoro top. Questo era l'ultimo regalino fatto in Borgostazione, di cui non mi ero neanche accorto. Mi ha mandato il titolare della carrozzeria la foto su WhatsApp chiedendomi se fosse nuovo e se fosse da correggere. Praticamente qualcuno, non si sa come, non si sa in che modo, se appoggiando uno scooter o cosa. Mi ha sfondato il portellino del gasolio, guardate qua com'è adesso di nuovo. Vi mostro da tutte le angolazioni in modo che si veda bene che sembra nuovo, cioè neanche toccato proprio. Sembra ci sia qualche gobba, ma sono in realtà solamente riflessi di luce, perché la lina è perfetta, in video non rende con le luci del crepuscolo. Il lavoro è davvero eccellente. Andiamo, controlliamo. Anche qua c'era qualche graffio fatto con le unghie sull'interno della maniglia ed è completamente sparito. Andiamo a vedere lato guida che era sicuramente più segnato. Anche qua non c'è più il minimo segno. Guardate che spettacolo. 116 mila chilometri. Guardate qua il risultato dopo essere passata nelle mani di quadrifoglio FWG. Non è finita qui, poiché io ho già tolto il FAP e l'ho rimappata, ma mi ha consigliato e mi ha fatto notare che se mi fossi affidato a lui prima probabilmente l'avrei potuto tenere, poiché dispone di un innovativo trattamento all'idrogeno, un lavaggio all'idrogeno del motore che influisce su tutto l'impianto di scarico, che libera di conseguenza anche il FAP da fare una volta l'anno, perché il prezzo è veramente ridicolo, senza doverlo eliminare con tutti i problemi a cui poi si va incontro. Mi dispiace solo non averlo saputo prima, poiché se posso cerco sempre di mantenere l'auto il più originale possibile, il meno inquinante possibile, però quando ho deciso per la rimozione davvero non avevo alternative, poiché facevo solo tratte brevi, mi sintasava di continuo. Non avendo parlato con lui prima non conoscevo questa possibilità che adesso suggerirò a chiunque abbia un autodiesel con filtro antiparticolato, perché veramente fa la differenza. Ma le sorprese non finiscono qua, poiché c'è anche l'interno. mi ha proposto, e gli ho subito detto di sì, anche la lucidatura interna. Adesso vi porto dentro, guardate, sembra appena uscita dal concessionario. Guardate anche l'interno porta dove si accumula lo sporco di solito, dove è proprio della strada. Guardate qua, delle portiere, gli interni. Lì mi sono già seduto ovviamente, ho già lasciato qualche briciola, anche perché sono con una tuta non esattamente pulita. Guardate il dettaglio del cruscotto, della zona cambio, freno a mano. Lì c'è la mia macchina fotografica, perché meritava fare due foto ben fatte al risultato. Purtroppo ormai la luce è andata. Si vede anche questo il nostro. Ecco, ciao Radio Wow, Ari Fashion, non può mancare. Beh però devo spegnerti. 116.000 chilometri, di cui 40 fatti da me, ho trovato un'ottima occasione e l'ho acquistata. Guardate il risultato dopo essere passata appunto nelle mani di Quadrifoglio e dopo aver anche seguito i suoi consigli, perché in realtà a me non interessava fare questo lavoro, però per fortuna mi sono fidato e guardate qua, sembra appena venuta a casa, dal concessionario. Qua c'è anche il tettuccio che... In più, c'è una checklist che loro fanno sempre, nonostante l'abbia portata solo per fare gomme, il braccetto destro e una lucidata generale. Guardate quanto rendono gli Xeno adesso. Loro fanno sempre una checklist completa, come potete vedere dalla data 27 agosto, battistrada, cinghe servizi, distribuzione, liquidofreni, pastiglie, pastiglie, dischi, dischi, testine, snodi, cuffie, giochi, tubifreni, perdite, spie, luci, spazio dei liquidi, batteria, avviamento, carrozzeria, tagliando e controllo. Il tagliando l'avevo fatto poco tempo fa, nell'officina in cui vado di solito, perché dovevo scendere a Napoli, dato che si sposava uno dei miei migliori amici e dovevo fargli da testimone, per cui siamo scesi dal Friuli con tutti i bagagli a Napoli. Io amo rosa con la Subaru, prima del viaggio giustamente gli avevo fatto fare il tagliando. D'ora in poi penso che Quadrifoglio FWG, in particolare Roberto, sarà il mio nuovo punto di riferimento per tutti i servizi auto, gomme, carrozzeria, meccanica, qualunque tipo di intervento, penso che sarà affidato a lui. Adesso penso, lo consiglierò a tutti gli amici in zona, lo consiglio anche a voi in video spassionatamente, che è davvero difficile trovare dei professionisti di questo calibro, che sappiano ascoltare le esigenze del cliente, consigliarlo al meglio, che siano precisi, puntuali, come è stato Roberto, che già conoscevo sia di fama, sia personalmente tramite altri amici, però non avevo mai toccato con mano, non avevo mai visto con i miei occhi sulle mie auto, perché non avevo mai avuto occasione, il risultato dei suoi lavori. Davvero consigliatissimo, puntuale, un ottimo professionista per quel che mi riguarda. Io vi do appuntamento al prossimo video, sperando di avervi dato un buon consiglio. Per oggi è tutto, ci vediamo prossimamente in un nuovo vlog. Ciao!